Tutelare il legame genitoriale fra un padre detenuto e un figlio, attenuare la distanza indotta dalla situazione carceraria, offrire infine un'opportunità per esercitare il ruolo parentale nonostante la detenzione. Il progetto Nati per leggere è entrato due anni fa nel carcere di Secondigliano coinvolgendo 250 padri. L'obiettivo di Nati per leggere è incontra proprio il nucleo familiare spezzato dalla detenzione e cerca di offrire delle opportunità sia ai padri di riscoprire il ruolo di padre che ai bambini di scoprire con la speranza che diventi un'abitudine il gusto della lettura. Vediamo bambini che si appassionano alla lettura ad altavoce, alle storie che dovrebbe essere un'opportunità per tutti ma sappiamo tutti che così non è. Ci fa piacere che anche oggi c'è l'amministrazione comunale vicino a noi, c'è la procura della Repubblica di Napoli vicino a noi, la sorveglianza, ci sono le istituzioni che in questo modo cercano anche di dare un messaggio positivo, un messaggio di speranza per il superamento della crisi sociale, di valori che tutti quanti viviamo nel nostro tempo e nella nostra città. Il giurista Zagrebelsky ha citato uno studio che collega il numero di parole utilizzate da una comunità col suo grado di democrazia e con l'uguaglianza delle possibilità. Ed è anche provato che i ragazzi più violenti possiedono in media minori strumenti linguistici e sono spesso incapaci di dare un nome perfino alle loro emozioni. Bellissima iniziativa che sosteniamo, questo dei figli dei detenuti con un punto di lettura, di ascolto, nati per leggere, nacque al PAN tre anni fa, l'abbiamo consolidata, adesso grazie a volontari e associazioni si fa anche qui, a breve apriremo un altro punto probabilmente a Forcella, quindi è una buona prassi che abitua i bambini sin da piccoli a leggere, a informarsi, a conoscere, ad apprendere. Nelle sale per i colloqui sono allestiti scaffali con libri a disposizione dei papà e dei bambini in visita. Nel progetto sono coinvolti funzionari dell'area pedagogica e personale di polizia penitenziaria per rafforzare la valenza di un'azione educativa a lungo termine. Una cosa molto importante è l'allestimento di piccolissime biblioteche dentro la sala colloqui, dunque quando vado a colloquio con la mia famiglia, io detenuto, posso prendere un libro, sedermi il piccolo sulle ginocchia e leggere 5 minuti, non di più 10 minuti, ma leggere un libro per il mio bambino. Ed ecco come si chiude il cerchio.